Grazie a tutti. Vi dico due cose proprio dei nostri ospiti di questa sera. Comincio da Anna Ferruda, che è qui alla mia destra. Anna Ferruda è una psicoanalista con funzione di training della Società Psicoanalitica Italiana. Svolge la sua attività professionale a Milano. È consulente supervisore in istituzioni psichiatriche e in istituti di ricerca. Lavora a contatto molto con le patologie gravi e anche con le difficoltà di funzionamento dei gruppi curanti. Si occupa anche molto del dialogo tra psicoanalisi e altre discipline, in particolare dell'interfaccia tra il disagio psichico individuale e anche l'aspetto culturale e la vita sociale. Ha svolto nella nostra società, di cui è un po' una punta di diamanti, ha svolto molte funzioni nella nostra società, soprattutto anche come segretario scientifico, vice direttore di una rivista per noi molto importante che è Psiche, membro dell'European Editorial Board dell'International Journal of Psychoanalysis, che è un'altra importantissima rivista. Ha rivestito anche la carica di segretario nazionale del training nel passato esecutivo. Tantissime, non ve le ho visto a dire, i suoi lavori, le sue pubblicazioni, ma essendo grande appassionata anche di cinema, mi piace ricordare un libro piccolo, ma molto prezioso per chi è interessato a leggerlo. Sarebbe molto interessante. Il titolo dice un po' tutto perché si chiama Pensare per immagini. Non ho visto a dire tutte le altre sue pubblicazioni in campo, soprattutto psicoanalitico. Anna Feruda viene molto gentilmente ai nostri incontri qui alla nostra settima edizione. Io le ringrazio molto perché viene anche da Milano. Edoardo Gabriellini è attore, regista e anche sceneggiatore. Il suo volto è noto non soltanto per le produzioni cinematografiche, perché l'avrete visto anche in quelle televisive, e vi ricordo soltanto la serie Padri di Riccardo Dona e anche i liceali di Giulio Manfredonia e Pellegrini. L'esordio nel mondo del cinema, credo molti di voi lo ricorderanno, è legato al nome di Virzi, che nel 1997 lo inserì nel cast di Ovo Sodo, di cui Gabriellini vestiva le panni del protagonista giovane diciottenne. Due anni dopo ha interpretato il ruolo di Alessio in un altro film di Paolo Virzi, Baci e Abbracci, e nel 2001 ha diretto il video musicale Tre Parole di Valeria Rossi. Allora, il regia è sorredito dunque poi nel 2003, con il film Bimbi e il Cormorano, che fu presentato al Festival di Cannes. E poi ha avuto tanti diversi ruoli di interprete in diversi film, ve ne cito solo alcuni, Ora o mai più di Pellegrini, Non pensarci, Ancora conversi tutta la vita davanti del 2008, Il mattino allora in bocca, Io sono l'amore di Luca Guatagnino. E' tornato poi alla regia con questo film, con Germano, Mastandrea e Gianni Morandi, e nel 2015 ha recitato come protagonista nel film da diadero Valerio, Bannat, Il viaggio. Io le ringrazio ancora e darei intanto la parola ad Anna Ferrua. Grazie di questo invito e di quest'occasione di parlare con tutti voi di cinema e psicoanalisi. Naturalmente il cinema ha qualche affinità, lo sappiamo tutti, con i sogni, perché come i sogni noi li animiamo nel buio della notte, così il cinema si prende forma nel buio della sala, e ha un testo manifesto e poi anche un testo invece nascosto che è costituito dalle emozioni e dalle associazioni che la visione di un film suscita in tutti noi. E quindi c'è questo parallelismo così, tant'è vero che spesso ci capita, dicendo fatto un sogno, fatto un film, di raccontare questa affinità. Allora, come premessa vorrei dire che questo film è stato scelto all'interno di una rassegna che è intitolata Il perturbante e mi sembra che sia una scelta particolarmente opportuna. Non so se già nel primo film presentato nella rassegna è stato ricordato il saggio di Freud che è intitolato Il perturbante, e un saggio di Freud il cui titolo è intraducibile né in italiano, in francese né in inglese. Tutte e tre le lingue l'hanno tradotto in modo diverso perché in tedesco suona intraducibile perché è un heimlich. In tedesco heimlich è la heim, che è diverso dalla casa, dalla house. E' il nido, quel luogo che riconosci proprio come il posto in cui sei nato, che ti è familiare, che ti appartiene. Ricorda molto, senza dubbio, questo film, questo paesino dell'Appennino. La un davanti, in tedesco significa non, ciò che non è familiare. E Freud, in questo saggio, tratta proprio di questo, delle emozioni che ci suscita qualcosa che in un primo tempo, diciamo, mi è del tutto estraneo, non mi riguarda. E invece dopo un po' ti accorgi che parla di te. Ecco, la visione del film di Gabriellini in me, l'ho visto prima di questa occasione, ha suscitato proprio un sentimento di totale straneità, di dire io cosa centro con, per esempio, questi personaggi, anche con l'iperrealismo del personaggio costituito dal cantante famoso di Morandio, oppure i cacciatori di lupi, le sfide a ping pong, il backstage appunto dei cantanti famosi, il desiderio di evasione dalla provincia della ragazza. e io dico, ma io cosa centro, no? Mi ha suscitato un sentimento profondo di estraneità, in qualche modo, no? E quindi ho detto, ma io non c'ho niente a che fare, proprio l'hanno scelto bene, perché mi ha suscitato, non so se anche in voi, io dico un aspetto delle emozioni, quindi il pubblico può dire gli altri aspetti. E allora poi improvvisamente una inquadratura invece mi è apparsa familiare. L'inquadratura che mi è apparsa familiare è quella del muro insanguinato dietro a Elio e a Adriana. E ho detto, ma questa è una tavola del Rorschach, non sapete che c'è un test proiettivo che prende questo nome Rorschach e che è fatto di macchie, solo di macchie. Di macchie, talvolta in bianco e nero, talvolta anche in rosso o a colori. E quindi quello ho detto, no, questo capisco, allora questo test proiettivo permette, proprio perché è fatto di macchie, di vedere in queste macchie quello che effettivamente forse non conosciamo in modo così chiaro e distinto di noi stessi, no? Ecco. E quindi ho incominciato a pensare che senza dubbio questo film parla anche di qualcosa che mi riguarda e mi sono interrogata, no, su questo. Prima di dirvi quello che secondo me mi riguarda, a parte l'unico personaggio come mi sono un po' identificata è la badante, perché io mi prendo cura di quasi tutti, per cui quello ha avuto una vibrazione di familiarità, ecco. Prima di dirvi qual è il sentimento Heimlich che mi ha suscitato il film però vorrei leggere la sequenza da cui parte Freud, personale, e raramente Freud parla di questioni personali che spiega benissimo lo stesso sentimento che io ho provato vedendo il film. È una citazione dal perturbante di Freud che è un saggio del 1919. Racconta Freud, prima di approfondire gli aspetti profondi della questione del perturbante, posso raccontare a mia volta un'avventura simile. Ero seduto, solo, nello scompartimento del vagone letto quando, per una scossa più violenta del treno, la porta che dava sulla toeletta tigua si aprì. È un signore piuttosto anziano, in veste da camera, con un berretto da viaggio in testa entrò nel mio scompartimento. Supposi che avesse sbagliato direzione nel venire via dal gabinetto che si trovava tra i due scompartimenti e che fosse entrato da me per errore. Saltai su per spiegarglielo ma mi accorsi subito, con grande sgomento, che l'intruso era la mia stessa immagine riflessa dallo specchio fissato sulla porta di comunicazione. ricordo tuttora che l'apparizione non mi piacque affatto. Ecco, questo, ecco, come... Allora, proprio spiega benissimo questa cosa, anche che è un po' l'emozione che ho avuto vedendo il film, appunto quella che dice, ma questi, cosa c'entrano con me, no? E poi invece il muro insanguinato mi ha richiamato a qualcosa che mi riguarda e che tutti quanti cerchiamo di confinare in un senso di estraneità. Io posso dire il mio, ma senz'altro in voi ne ha suscitati altri. Il mio senso di estraneità riguarda il problema che non vorrei vedere, che nonostante che io faccia la psicoanalista, ami molto parlare con me, per questo sono qua, e comunicare con gli altri. Forse un aspetto di isolamento c'è anche in me. E mi sembra che in questo film è stata messa in scena una situazione in cui tutti sono isolati l'uno dall'altro, non solo l'appennino tosco-emigliano, ma ogni personaggio è isolato, non è che solo, è isolato. Isolato con i suoi pensieri, con le sue difficoltà, con le sue aspirazioni, con le sue ambizioni. E forse parla del fatto che in ciascuno di noi, quindi in me, ci sono aspetti isolati e non comunicanti. E a rimanere isolati si ridiventa lupi, forse. Comunicare con gli altri è difficile, ma l'isolamento fa ritornare un aspetto lupo di ciascuno di noi. E da questo punto di vista mi sembra che il film rende molto l'idea di questo isolamento, per esempio, delle associazioni che ho fatto che mi hanno colpita, siccome è un film contemporaneo, internet non c'è. Una sola volta viene citata internet. Quando Elio dice che a Adriana, ma forse ci avrà trovati andando su internet dove la nostra azienda è abbastanza ben rappresentata. Poi vorrei dire anche qualcos'altro, ma invece mi fermo qui per mettere in evidenza che sarà seccante pensare che ciascuno di noi vuole essere isolato, forse come è stato isolato nel momento della nascita in una situazione originaria in cui anche il rapporto con chi si prendeva cura di noi, quindi quasi sempre la madre. Era tutt'uno e c'era quel veato isolamento in cui nessuno, i vicini di casa non ci davano fastidio, i vincoli della legge nemmeno e altro ancora. Era un momento in cui tutti quanti ogni tanto abbiamo voglia di restare isolati, però se esageriamo forse c'è il rischio di rifar avvicinare troppo strettamente a ciascuno di noi gli aspetti, chiamiamoli lupo come metafora. Questo è l'aspetto che ci ho visto io, ringrazio il regista e tutto il gruppo perché ha permesso di pensare e sentire delle emozioni che forse queste sono le mie. Adesso sarà interessante vedere lo sventagliarsi di quelle degli altri. Grazie. Dicevo, vuoi dire qualche cosa di questo film? Intanto una domanda che si fa sempre è un po' quella della storia, delle origini anche, di come nasce un film, di come si è sviluppato. Innanzitutto ringrazio la dottoressa perché dopo queste parole meravigliose, intelligenti e profonde io starei zitto in realtà perché faccio fatica. Vorrei tanto dire, potermi permettere di dire io ho fatto il film. Però rispetto all'origine e visto che la tematica di questo incontro è il perturbante, per me elemento fondativo del cinema, della sala cinematografica stessa. Quando entro al buio in una sala è qualcosa di familiare, allo stesso tempo un qualcosa che mi può proiettare in un cortocircuito emotivo o comunque di incapacità nel decodificare gli eventi che mi saranno proiettati davanti. Quindi per me questo, in buona parte dell'idea di cinema in termini creativi che ho, è appunto fondante. Rispetto a come è partita l'idea di fare a fare questo film diciamo si sono unito i due idee, io da un po' di tempo a questa parte vivo a Bologna e per caso ho conosciuto in un bar, in un posto Gianni Morandi e l'idea di vedere Gianni Morandi non solo imitato da Fiorello che fa il cattivo ma metterlo in scena in una forma e fargli mettere quelle manoni tra le gambe di Valeria Bruni tedeschi era una roba che mi inquietava e che mi ha stimolato. E in più devo ammettere un episodio che mi è successo io ho un figlio ormai grande ma che all'epoca nel 2010 aveva cinque anni e io ritornando a casa una sera passo da una stradina semi buia dove c'è un gruppetto di ragazzi giovani non italiani probabilmente dell'est che stavano ridendo e scherzando con delle birre su un muretto e a me distinto mi è venuto di prendere mio figlio per mano e tenerlo più stretto quindi ho sentito come se una paura indotta ero anch'io educato io che mi reputavo progressista per certi aspetti filosoficamente parlando eppure questi non ci hanno filato minimamente quindi mi sono prima vergognato di me e poi ho cominciato a riflettere su quell'idea della diffidenza nei confronti dell'altro l'ho ambientato per comodità di spettacolo in un paesino dell'Appennino poteva essere dentro un condominio in una città o dovunque quindi insomma diciamo l'unione di queste due cose mi hanno fatto arrivare a sviluppare l'idea del film dove per me era abbastanza fondamentale che non ci fosse un cattivo io a differenza di quello che ha detto lei poc'anzi invece mi rivedevo in tutti i personaggi che stavo costruendo nel narcisismo del cantante nella voglia di fuga della ragazzina nella gelosia furibonda del ragazzo che poi figlio di quella cultura è quello che sparerà perché non spara il padre ma spara lui e nell'atteggiamento naif da una parte naif del fratello grande interpretato da Valerio e la presunta responsabilità di non troppo presunta di di Elio quindi diciamo che la mia idea era mettere insieme appiccicandoli a personaggi e caratteri diversi invece tutta una serie di sfaccettature che sentivo profondamente mie questa è la parola grazie allora è piacere delle cose da dire ma aspetto e c'è qualcuno che vuole intanto non so rompere il ghiaccio fare una domanda qualche cosa che mi viene in mente questo beh questo è sempre più perturbante che qualsiasi altro film aspetta che arriva un attimo arriva il microfono qua davanti grazie il nostro collega Rocchietta perturbante malattia di Valeria Bruni Tedeschi più vicino la perturbante malattia sì la perturbante malattia di Valeria Bruni Tedeschi da dove viene fuori a dire la vera verità non ne ho la più palida idea volevo volevo un'incapacità di convivere con 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 quel con quel narcisismo lì e l'idea di una moglie probabilmente un tempo lei più giovane di un bel po' di Gianni e quindi di quel di quel personaggio e che è ridotta a quello diventava l'ostacolo al suo ritorno e dava e metteva sul personaggio la figura della moglie una una costrizione dolorosa ancora più che per il male per appunto l'immobilità nei confronti del cantante quindi dire da dove è partito farle venire un ictus non non mi dispiace no mi dispiace perché uno dovrebbe invece saper fare le robe sai sono quelli a un certo punto è come capisco che suona superficiale però è come quando fai tipo dei disegni che manca un colore ti rendi conto che è quello perfetto poi ho avuto la fortuna di la costruzione questo è un po' fuori tema però la costruzione di questo film è veramente ruotato intorno alle persone che sono state coinvolte e quindi fin dalle origini dell'idea Valerio Vastandrea in primis che firma infatti anche il copione però durante la costruzione del film ho avuto la fortuna di incontrarli precedentemente tutti gli attori che poi hanno interpretato i ruoli quindi quasi quasi tutti hanno messo il loro tassello non lo so poi mi faceva un personaggio un po' ecciocchiano mi piaceva posso fare un controcanto a questo perché io nella malattia di Valeria Brune Tedeschi vedo un altro aspetto di questo una situazione in cui ognuno è immobilizzato nella propria posizione non solo fisica ma anche evidentemente emotiva e non riesce a muoversi questa fissità che ciascuno è dentro il giovane ragazzo non pensa che può avere un futuro ecco questa mi è sembrata suggestiva l'idea di fare come moglie del cantante una praticamente che non riesce a muoversi perché quello che ha detto Gabriellini sì perché il narcisismo di certe persone poi immobilizza gli altri perché li costringe in una posizione coatta ripetitiva e immutabile invece che evolutiva e cangiante in qualche modo grazie premesso che non avevo visto il film quando era uscito ma l'ho trovato molto interessante sicuramente un buon film per me io volevo sapere soltanto una cosa perché ho trovato forse nel film per me sempre premetto forse un punto debole quello quando i carabinieri durante il concerto vanno verso il sindaco e gira voce che i due operai o comunque l'operaio aveva ucciso Valeria Bruni diciamo è stata voluta questa cosa per marcare ancora di più il possesso di questa gente del paese della propria appunto necessità di voler tenersi sempre loro questo appunto questo possesso del posto è stato diciamo soltanto un meccanismo cinematografico e basta ripeto per me è stato soltanto l'unico un po' un punto debole rispetto a tutto il resto del film grazie grazie a lei no è stato esattamente nasce dall'esigenza narrativa di raccontare esattamente quel tipo di approccio soprattutto in un paese cosa che comunque le ronde le cosiddette ronde dei cittadini ci sono anche a Bologna dove abito ahimè il tempo in cui si svolge e come va a rovinare questa valanga è talmente breve che l'apparizione dei carabinieri è fulminea solo perché non hanno tempo rispetto alla gestione è tutto in concomitanza di un concerto e rispetto e rispetto alla morte che probabilmente è riportata per telefono dalla dalla badante arriva in un momento in cui le distrazioni sono alte e è anche la dinamica di come è morta lei non sono ben chiare quindi loro si arrogano la scelta di dover andare a fare una specie di spedizione punitiva che non a caso appunto dicevo loro sono i padroni di casa e lui quando trova Valerio lo pesta ma non lo uccide dovrebbe essere poi che non c'è tempo affinché le forze dell'ordine o insomma quelle che incarnano possano prendere la loro posizione non voleva essere né uno strumento o meglio sì è comunque un meccanismo cinematografico assolutamente perché è a servizio sicuramente della storia film c'è un'altra domanda in cima volevo un attimo mettere un po' più a fuoco alcuni punti non so se si sente si parla più vicino e meglio mettere a fuoco un po' alcuni punti ma non tanto del film ma quanto il modo di vedere il film o di vedere la cosa una cosa che mi ha colpito della dottoressa è che dice che il silenzio evoca i lupi qualcosa di questo genere dico bene o ho sbagliato l'isolamento l'isolamento ecco l'isolamento evoca i lupi non so mi sembra un po' una cosa già particolare questa perché l'isolamento per contrapasso per diciamo cercare di capire un po' meglio la situazione mi sentirei per esempio così provocatoriamente di mettere a confronto l'isolamento in quel caso un isolamento particolare il regista fa avverere dei quadri di un appendino o tosco emiliano particolare un posto di una villa così isolata una natura con degli aspetti così con dei personaggi che sono sicuramente molto voi che siete psicanalisti vorreste descriverli bene sicuramente personaggi molto particolari che ovviamente porta a una tragedia che si manifesta in un certo modo però per contrapasso direi l'isolamento evoca i lupi però c'è anche un isolamento che potrebbe essere anche molto positivo cioè pensavo perché vengo da fuori oggi con una bella giornata di sole eccetera passando in mezzo alla campagna l'isolamento ho fatto parecchi chilometri insomma parecchi diversi chilometri con la macchina l'isolamento non ho mai evocato i lupi una bella giornata di sole anzi mi ha ridato un respiro molto che in questi giorni l'avevo perso un po' col clima il freddo la neve un po' dei giorni scorsi eccetera è stata una prima giornata di primavera che quindi l'isolamento non necessariamente credo debba evocare i lupi se l'isolamento evoca i lupi dei motivi ci stanno allora sarebbe interessante andare a scendere un po' più in basso andare a vedere quali sono questi motivi perché se no le cose ci sfuggono veramente e non riusciamo cioè rimarrebbero delle nuvolette così di cui non riusciamo neanche a capirne l'origine o i contenuti e un'altra cosa questo come primo aspetto diciamo sarebbe molto da scendere poi un altro aspetto del recista che dice alla domanda perché ha messo quel personaggio come lei Bruno Tedeschi in quel modo ma si potrebbero fare tante altre domande dello stesso tipo perché due personaggi fratelli che hanno un comportamento sicuramente parecchio alterato diciamo perché una dei cacciatori che hanno un comportamento con delle azioni anche parecchio insomma fuori le righe e un artista che anche a sua volta ha un modo un po' confusionario di affrontare è chiaro che alla fine si arriva a un qualche cosa sicuramente che poi va fuori però l'importante di tutto questo credo che dovrebbe essere che nella storia qualcuno poi dica il perché o il perché o per come ha messo insieme delle cose e cosa voleva rappresentare e quindi sciogliere qualche situazione grazie sì mi sembra grazie nel senso sì io ho detto un mio sentimento personale ma altri possono vedere altre cose e dico che l'isolamento può provocare un ritorno dei lupi come metafora cioè di aspetti violenti per chi contro chi vuole violare questo isolamento nel quale uno si sente padrone di casa però noi sappiamo che ultimamente negli ultimi 3-4 anni ci sono stati tutta una serie di film che invece descrivevano il ritorno in luoghi isolati in paesi abbandonati in cui si ritornava a vivere dei prodotti diciamo della natura e auto che esaltavano anche questo ritorno a una situazione di diciamo pure di isolamento e di contatto con la natura dipende insomma dai contesti certamente però qui nel film voleva mettere in evidenza che quando diventa secondo me è sempre qualcosa in cui si rifiuta di stabilire dei legami dei contatti anche all'interno dello stesso luogo con gli altri perché la mancanza di contatto riguarda anche gli abitanti di questo posto riguarda anche il personaggio di Fausto Mieli e di Moira ecco allora diventa forse un fattore scatenante delle violenze incontrollate ecco da questo punto di vista poi c'è differenza tra isolamento e solitudine però c'è anche naturalmente nessun aspetto può essere come dire fatto diventare la verità assoluta qui io ho colto questo aspetto che anche gli abitanti stessi di questo paesino di 300-400 anime sono descritti come incommunicanti tra di loro che con difficoltà si immedesimano nell'altro cercano c'è poco dialogo e che questo la comunicazione anche quando si sta appunto in una bella giornata di sole come questa a contatto con la natura lei ha comunicato con l'ambiente invece c'è un po' questo atteggiamento poi probabilmente se la sua passeggiata in isolamento nel verde con una bella giornata durava due anni allora sarebbe stato più preoccupante avrebbe trovato anche lei un modo di sentirsi più lupo non è l'isolamento di passare in solitudine un pomeriggio nel verde di una bella giornata forse la dottoressa non intendeva quell'isolamento perché per dire come le parole che adesso ha detto Gabriellini la solitudine è beata beata solitudo e l'isolamento a un certo punto diventa un arroccamento in qualcosa da cui non si riesce più a staccarsi e una chiusura verso l'altro un'incapacità di riconoscere l'altro credo che questo intendesse perché una passeggiata nella natura è solitudine è comunicazione io volevo mettere in evidenza la mancanza e anche il piccolo dettaglio che internet è poco presente è casuale inconscio e proprio per questo è significativo di questo luogo nel quale la comunicazione scarseggia con la natura come con la cultura ecco beh ricordo molto scusate il tema anche di Into the Wild io volevo dire una cosa tanto che qualcuno vedo ancora non alza la mano che riguarda un po' vari aspetti che sono stati citati intanto questo della solitudine mi viene in mente il discorso che faceva Pirandello Pirandello diceva l'unica forma di solitudine non è quella che noi proviamo quando stiamo da soli la solitudine è stare solo con gli altri cioè non comunicare quindi il non comunicare che è un aspetto come diceva giustamente prima Anna Ferruta che è un aspetto cardine tra le altre cose del nostro lavoro si attua ecco ma quando si attua Marco Berti che sta in fondo alla sala insomma insieme al centro sperimentale è quello che lavora con noi per organizzare come Pala Expo questa rassegna ricorderà bene che quando si trattò nello scorso autunno di cominciare a definire i temi di questa rassegna venne fuori un tema che poi fu escluso fondamentalmente perché era molto difficile trovare dei film adatti e il tema legato a questo aspetto del perturbante era proprio la natura la natura può essere un elemento come si dice nel film e come si vede anche in tante opere forse più in alcune opere pittoriche ecco apro e chiudo una parentesi per dirvi che noi comincieremo anzi una rassegna su questo proprio al Museo d'Arte Contemporanea di Roma dove questi stessi temi verranno affrontati nei confronti proprio delle pitture e delle sculture dunque la natura di suo come dice anche in tanti film mi viene in mente appunto in to the world ma non solo può diventare un elemento perturbante ma perché lo è? io credo che in questo film mentre ci sentivo parlare credo che bisogna anche citare un aspetto che riguarda il femminile perché la natura è madre natura ma madre natura può essere una madre natura che dà appunto protezione ma può essere una madre natura estremamente potenzialmente distruttiva da uno tsunami oppure da una natura che non protegge una natura dove ci sono appunto i lupi dunque un elemento perturbante è già prendere contatto con degli elementi molto primari molto primordiali nel loro aspetto che non sono appunto portatrici della come diceva no? lei prima del verde della natura riposante beata natura ma invece è qualche cosa di e qui si inserisce dunque io credo anche un elemento in cui il femminile ci potrebbe stare pure non so se Rocchetta è d'accordo questo aspetto della donna malata perché c'è un femminile anche qui che rimanda ad un femminile non protettiva ad un femminile malato ad un femminile che muore e che mette poi in movimento con la sua malattia anche tutto quello che di distruttivo si andrà a vedere all'interno del film scusami se ti interrompo nello specifico qui che ho un'idea chiara la rappresentazione della natura e con natura si intende l'ambientazione proprio scenografica di questo film ogni volta che inquadrata per me era incarna come personaggio un testimone è un testimone che quasi se la ride rispetto alle piccolezze di come questi personaggi si si sgomitano si ammazzano quindi sembra la natura della ginestra di Lopardi esatto guarda guarda senza osserva gli eventi che accadono e un'altra cosa che volevo ancora dire che mi sembrava anche interessante ci sono ancora altri due tre aspetti che volevo citarvi intanto questo fatto mi colpiva che l'avete detto sottolineato anche che c'è un film centrato anche sui fratelli beh i fratelli è un altro grande tema del perturbante perché nel nostro lavoro analitico si dice ma questo lo dice anche la storia eccetera non c'è odio più grande di quello che si può scatenare tra fratelli da Caino a Bele a Romolo e Remo e via discorrendo quindi anche lì questa coppia di cui si vince un aspetto non so se siamo d'accordo anche un aspetto perturbante poi un'altra altre due cose poi mi taccio era lui diceva giustamente ha citato questo discorso dell'altro per chi c'era noi abbiamo dedicato un intero ciclo di proiezioni al tema dell'altro c'è stata una recente ricerca neurologica neuroscientifica scusate nel quale si è evidenziato attraverso questi meccanismi di neuroimaging che fanno vedere cosa si attiva nel cervello beh la cosa più interessante e sconvolgente per rispondere a quello che tu dicevi è che nel cervello di qualsiasi persona di qualsiasi razza di qualsiasi età anche soltanto la visione di un altro essere umano che abbia qualche caratteristica discorde lontana dalla nostra che non è solo banalmente il colore della pelle attiva nei nostri circuiti cerebrali due meccanismi fondamentali quello dell'ansia e quello della paura per chi di voi è medico si attiva la migdala la migdala che è il cuore del nostro cervello dove sono tutte le emozioni dunque vuol dire che noi siamo per motivi probabilmente evoluzionistici ma che confligge con il nostro aspetto culturale eccetera selezionati di modo che di fronte al diverso ci mettiamo in una condizione di allarme se su questo precipitano tutte le condizioni culturali e sociali che noi sappiamo si arrivano a fenomeni che tutti quanti abboriamo e vediamo e vabbè c'è qualche altra cosa ma non voglio prendere troppo spazio quindi se invece c'è qualche ecco c'è una domanda qui davanti più che una domanda volevo aggiungere una piccola riflessione a questa cosa che è stata detta sull'isolamento praticamente che diciamo mettendo il focus sul personaggio di Valerio Mastrandrea mi è parso che diciamo questo isolamento derivasse appunto molto da una mancata comunicazione sì ma in particolare anche da un fraintendimento cioè questo personaggio non riusciva a farsi capire e veniva più volte frainteso quando lui parlava con Gianni Morandi del fatto del mosaico che era una sua diciamo iniziativa creativa un po' naif Morandi dà delle risposte un po' confondenti così lui le ha fraintese comunque quindi in buona fede ha pensato di fare questa cosa e invece dopo appunto è stato poi ovviamente il fratello si è arrabbiato che rappresenta un po' questo doppio responsabile no? E quindi poi diciamo rileggendo questo film un po' anche come un sogno come diceva all'inizio la dottoressa Ferruta mi sembrava che potesse rappresentare la paura se fosse un sogno la paura di non riuscire a comunicare la paura di essere fraintesi sempre nonostante le proprie buone intenzioni e che questo è la paura che dall'altra parte non vi sia una capacità comunque di ascoltare di accettare diciamo la comunicazione quindi una difficoltà propria come le difficoltà che nei sogni ci sono a correre a parlare nel momento in cui uno vorrebbe fare ecco una difficoltà a comunicare e una difficoltà a ricevere dall'altra parte che questo scateni poi delle angosce persecutorie fortissime che determinano poi l'uccisione addirittura il difendersi eccetera in maniera così alla fine drammatica e mortifera e poi c'erano tante altre cose che mi ha fatto venire in mente questo film ma questa era quella più importante che volevo dire grazie bellissimo intervento e rispetto al fraintendimento il film si basa su una serie di fraintendimenti nessuno si ferma a provare a capire appunto chi c'è accanto dalla prima reazione del personaggio di Fausto Mieli su quella che poi viene appunto fraintesa come una spiata del lupo perché il lupo c'è da lì parte una serie di evidenti un'evidente incomunicabilità tra quelli più lontani ma tra quelli vicinissimi perché appunto c'è una totale incomunicabilità anche fra i due fratelli c'è l'amore che questo amore non è odio è amore basta è amore in comprensione però per me è quello era un un sosseguirsi di fraintendimenti in un tempo tale dove nessuno ha mi sembrava per me come incumo ancora più che come sogno a modo tempo testa pensiero per per dire aspetta basta mettere insieme questi punti potremmo evitare quello che invece è inevitabile almeno in questa storia quindi il fraintendimento per me è abbastanza una parola chiave su questo film si aggiungo qualcosa mi sembra un intervento che fa pensare ulteriormente per esempio se dobbiamo utilizzare appunto questo concetto freudiano del perturbante dobbiamo pensare come del resto Gabriele ha detto che in tutti questi personaggi c'è un pezzettino di noi da riconoscere no e da ascoltare e che allora mi è sembrato geniale nella sceneggiatura pensare che chi arriva come strano e o non accettato sono persone che vengono da Roma in Emilia ecco non è stato preso l'estracomunitario quello di un'altra cultura questo è geniale secondo me nel far vedere che difficoltà ci sono ad ascoltarsi e a capirsi anche tra persone che sono indubbiamente vicinissime ecco allora questo e allora effettivamente il personaggio di Cosimo quello interpretato da Valerio Mastandrea è un po' come non so un idiota dostoieschiano in un certo senso quello che come dire vorrebbe dire le cose semplici ma non riesce a farsi capire perché con il mosaico che ha citato la persona che ha parlato lui vorrebbe mettere insieme possiamo interpretare dei pezzettini di tutti per farli stare insieme di tutti questi soggetti che vivono in questo paese e invece poi viene assolutamente cassato no no però invece era un tentativo di mettere insieme i pezzi in cui forse poi il disegno finale questa spirale era anche abbastanza bello no 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 tutto deve essere di nuovo uniforme con una presupposto una presunzione di come dire di assolutezza del proprio modo di vedere le cose e mancanza di ascolto comunicativo ecco a proposito dell'attore io penso non è stato messo in risalto se era stato tossicodipendente oppure ha avuto problemi di altra natura Mastandrea però il fratello in qualche modo dice che lo sopporta da 50 anni quasi e ci cade sempre alle sue malefatte alle distrazioni e quindi in qualche modo i due fratelli si vogliono bene si coprono sia nella tolleranza di quando uno sbaglia e sia nell'agevolare non so l'approccio con la ragazza dice vai pure che tanto finisco io quindi tutto ognuno lo interpreta come vuole e poi un'altra cosa magari che è stata relativamente alla signora che prende le pastiglie non si sa bene forse per calmare come si dice la malattia nervosa gli attacchi epilettici ecco l'epilessia chissà perché si rifiuta di di prenderle infatti le mette in bocca però poi non le indiottisce ecco come mai mi sta chiedendo perché si vuole ammazzare no non che perché si vuole ammazzare il desiderio anche cioè le pastiglie che si rifiuta di prendere non è che causerebbero la morte se non se le prende penso così un un modo per non so non sono riuscito a capire per perché senza le pastiglie la signora è morta la signora allora noi ci siamo ovviamente come dovrebbe fare qualsiasi cineasta documentati dopo attacchi ictus simili quelle che poi come strascico paralisi e appunto induzione all'epilessia che cosa succede quali sono poi le conseguenze e senza avere il controllo continuo di queste pastiglie che a me un tempo lo sapevo il film non è proprio giovanissimo come si chiamano e che cosa inibiscono dentro questa crisi nervosa però saltato due o tre volte può anche portare a uno scompenso tale che si muore quindi è ovvio che poi c'è quello che è si chiama l'elemento romanzesco che nel nostro film arriva e noi vediamo solo quella volta lì che lei non prende le pasticche pur il personaggio di Fausto lamentandosi con la badante fa in modo che le prenda perché evidentemente non è la prima volta quindi se lei mi dice che dal suo punto di vista non è credibile dopo una se si avesse saltato due pasticche che lei muoia me ne dispiace questa no ma gliel'ho chiesto se voleva sapere per quello e il motivo è evidentemente si sta lasciando andare si sta lasciando morire la signora però oppure semplicemente anche un anche un una richiesta di attenzione o di ribellione visto che sta in una posizione purtroppo in cui non può deve sottostare al marito allora uno dentro di sé c'è anche quell'attimo di ribellione ma c'è una ribellione io diciamo che per concludere potrei citare un aneddoto che quando sono dopo che Gianni Morandi lessi il copione lo fece leggere alla moglie una persona intelligentissima simpaticissima la quale tornò a tavola lo lessi la mattina quando lui mi invitò in questa splendida casa in campagna non troppo isolata che legge arriva a tavola dicendo a Gianni madonna è forte questo finale e Gianni un po' insomma preso così disse no vabbè eccetera Gabriellini ha esagerato ha esasperato quel momento lei serissima mi dovete credere serissima appoggiò le posate e gli disse guardami negli occhi e dimmi che in una situazione simile te non faresti altrettanto e Gianni andò a finire di vedere la partita del Bologna in sala senza rispondere ora non voglio dire che è un potenziale assassino però volevo dire ok grazie mille va bene pensavo che è finito no lo so allora forse abbiamo ancora poco tempo se c'è ancora qualche qualche domanda prima di lasciarci però invece abbiamo ancora ecco c'è una domanda qui davanti scusate un attimo e carico il microfono un secondo e non si sente no un secondo c'ho nel microfono buonasera ciao ah no ah no siete due allora lo signorai no io volevo volevo dire altre cose poi invece parlando adesso verso il finale mi è venuto in mente sul tema invece forse anche della vendetta nel senso che ho pensato che in fondo quasi tutti i personaggi del film in un certo modo si vendicano di qualche cosa quindi pensando a a valeria brunadeschi forse decide di rovinare diciamo il concerto del marito sesso morandi forse la lascia morire perché è stanco di di aver subito in un certo modo tanti anni di occuparsi di lei come il ragazzo spara a Germano perché in un certo modo si vendica di quello che non ha potuto rire cioè mi è sembrato di pensare ma non era quello che potevo dire ma poi parlando mi è venuto in mente questo se poi in realtà ci fosse questo elemento di perturbante che in un certo modo può portare ad una reazione soprattutto io ho detto vendetta ma in realtà non so se sia la parola giusta il fatto di scatenare qualcosa rispetto a quello che ci è stato tolto o non siamo riusciti da ottenere in un certo modo perché in un certo modo tutti i personaggi poi agiscono Mastra Andrea si vendica insomma di quello che forse non ha mai potuto sopportare perché in fondo per tutto il film lui non vuole non sopporta questo poese non sopporta queste persone quindi in un certo modo ho pensato anche alla scena finale cioè nel senso finisce su Mastra Andrea prima dei titoli è un po' una scena molto così sicuramente aperta non dico che è un finale aperto perché sarebbe difficile però in un certo modo ecco mi era venuto in mente questo tema del perturbante legandolo allo scatenamento di qualcosa che poi finisce per creare una catena diciamo di eventi molto diciamo di causa e effetto poi volevo fare una domanda se c'era stata perché poi mi sono venuti in mente due film non so se uno era Cane di Paglia quello di Peckinpah sul tema soprattutto della 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 cittadina che in un certo modo non sopporta gli estrani poi lì c'è una violenza esasperata e l'altro anche riferendomi alla natura è venuto l'altro in un film che era il tranquillo weekend di paura quindi se ci fossero stati dei riferimenti assolutamente sì sì era una domanda un po' ti dico che è tutto scopiazzato il film no 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 giuro non voleva essere è assolutamente potrei farti senza nessun problema l'elenco tra Cane di Paglia la cerimonia di Chabrol cioè ce ne sono tantissimi che ho proprio studiato e alcune sequenze quasi copiato letteralmente credo che sia però parte del mio lavoro no no ma questo non l'ho detto cioè poi se poi mi citano per plagio è un discorso se nell'insieme vedi delle suggestioni che ti riportano a quelli no no ma io credo non per dire che non si che questo no ma credimi non l'ho presa non è una reazione adesso facciamo a botto ci spariamo intendo dire intendo dire che davvero era assolutamente voluto erano i film anche che a parte della truppa sono stati fatti vedere come veri e propri riferimenti da traslare e portare dentro la nostra storia rispetto alla prima questione del termine vendetta a essere sincerissimo altrettanto sincero ti dico che no non è stato una roba a cui ho pensato è un termine è una dinamica che almeno non era così manifesta nelle mie intenzioni poi ovvio per quanto mi riguarda quella più palese visto il feroce dolore è quella di Valerio che impugna lo stesso fucile va quella diciamo rispetto all'andata via posso dirti anche un'altra citazione loro arrivano da quella betai da quella strada e lui se ne è arrivato a quella e quello è copiato da i telefilm di Hulk lui arrivava in un paesino faceva il casino e tornava via dalla stradina a piedi quindi per me quello era Hulk telefilm no 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 io penso che poi un regista debba sempre citare sicuramente il film che ha amato grazie però questa domanda scusate voglio dire soltanto una cosa interessante perché parlando da analista mette l'accento su una cosa di cui si è accennato ieri per chi c'era ma in ogni caso la manifestazione delle cose che accadono del reale tutto questo nasce da una storia nasce da una narrazione un grande psicoanalista inglese diceva che tutti noi abbiamo un passato ma pochi di noi hanno una storia cioè che vuol dire che se noi riusciamo a fare del nostro passato una storia cioè a creare una narrazione su quello che è stata la nostra vita probabilmente situazioni come queste non accaderebbero perché allora non ci sarebbe bisogno ne abbiamo parlato ieri no? non ci sarebbe bisogno di mettere un modum meccanismo di proiezione sull'altro di quelle parti così distruttive che ognuno di noi si porta dentro come diceva all'inizio Anna Ferruta e dunque ci potrebbe essere una possibile di elaborazione quando questo non accade perché non abbiamo questa capacità e noi analisti questo cerchiamo fondamentalmente tra l'altro di fare nel nostro lavoro questi nuclei distruttivi vanno sull'altro e determinano molte cose di questo tipo quindi ricostruire quindi è giusto quello che le dice che dietro a tutto c'è necessariamente un nesso casuale narratologico che porta poi nella nostra vita quotidiana le cose anche molto pesanti volevo solo dire al di là della citazione se posso finire era semplicemente dire che al di là delle citazioni dei film sicuramente tu sei riuscito a comunicare invece un senso cioè una ricostruzione di una di una diciamo di un paese che comunque conosciamo bene nel senso almeno per quanto mi riguarda io venendo un po' dalla provincia un piccolo paese mi ha dato molto la sensazione di quell'isolamento di cui parlavamo prima e quindi di qualcosa che molte volte finisce per poter esplodere in un certo modo no? certi ritmi certi quindi questo secondo me il film è molto riuscito nel senso di l'esempio che ho detto è lontano invece la ricostruzione secondo me di qualcosa che conosciamo tutti perché in fondo questi paesi insomma ce ne sono tanti quindi non faccio non voglio fare i nomi io dicevo semplicemente sulla mia esperienza personale per ribadire l'idea della provincia e del paesino per me era esclusivamente un eschiamostato cinematografico non voleva essere una una critica uno sguardo sociologico sulla provincia perché ripeto per me poteva essere in un condominio in prati anche l'origine di tantissimi delitti non a cassa è quello che intendo era più antropologicamente che mi sembra interessante questo racconto c'era un'ultima domanda mi pare sopra lei ecco sentiamo lei così poi allora volevo dire il personaggio di Morandi è sicuramente molto ambiguo ma alla fine quando lui cerca questi gemelli poi li trova in mano alla moglie chi è che li aveva li aveva presi la moglie i gemelli suoi perché cosa eh oh la lascia morire non li trova non li trova ce li aveva semplicemente sotto il naso ma non erano vicino al corpo della moglie erano sul tavolo sì e quindi e quindi li trova e allora e si li mette perché sarebbe brutto non c'entra niente non c'entra niente il fatto della morte della moglie non c'entra i gemelli no non c'entra altre cose prima di lasciarci vorrei lasciare un attimo ancora la parola però ad Anna Feruda se ci potete qualche ultima impressione quello venendo come sto io vivo e lavoro a Milano quindi venendo a Roma avevo in mente che avrei commentato questo film che avevo quindi visto da poco e insomma il mio pensiero andava su appunto questi due elementi ho fatto fatica anche a venire perché avevo delle mie cose da fare eccetera su questo problema dell'isolamento e della comunicazione no a me sembra che siano due poli tutti e due che dobbiamo tenere presenti che certe volte ci fa anche piacere no isolarci in una specie di autismo perfetto e altre volte invece comunicare allora mi viene in mente venivo a Roma mi viene in mente la storia insomma Roma quella antica ha costruito strade internet anche non disprezziamole certo allora io vi ringrazio ringrazio i nostri ossi il nostro canale che non mi viene in mente è il nostro canale e il nostro canale che non mi viene in mente Grazie a tutti.